è appena uscita su dashcam sicurezza una nuovissima recensione di un prodotto davvero particolare e cioè una dashcam per casco quindi qualsiasi cosa guidata che sia una moto o una bici questa dashcam fa assolutamente per voi cliccate sul link in alto per andare a vederla un'altra Si! Ma cosa bella? Wow! Wow! Questa è popolto! Pip! Orto! Ma contemporaneamente l'attacco che fa l'ultimo all'Occidente riguardo alla sorte dell'anno. Ma guarda te, ma sei un coglione, ma sei un coglione, porco di... Ma la storia incoglionita? Ma ti rendi conto? Non lo coni, ma che cazzo, non gli togli la potente. Ma allora cazzo, vai! Ma figata, ma figata, no, no. Ma cornuta che c'è! Ma meglio? Eh sì, sì, è meglio. Ah, non è tutto. Così c'è? Eh, non so, viene in mezzo, porco. Ma che bisogna essere dei coglioni? C'è il mio figlio Ma ha perso la calma? Ho mai detto l'arma. Io mamma sono. Però... Irlà... Mi ha fame Cazzo fai Ehi È un arco coglione Non ci si poteva andare Al senso mio, poi c'aveva una macchina dietro Che cazzo Scusate ma questo lo dovete vedere Questo qua Ma senti Il film evento dell'anno Ci siamo Arriva finalmente al cinema 3, 2, 1, 8 Don't be a movies è tornato Dog Gun Maverick Il film che stavamo a... Andate prima il 21 e il 22 Guardalo, guardalo, guardalo Ma Dio Ma si può Vabbè, ha senso Bra... Bravo Grazie a tutti Oh, basta Che cazzo devi fare? Deciditi La sta facendo Facendo così Deciditi un pochino Eh, mettilo giù Mettilo giù Che cazzo stai in mano col telefono Mentre guidi? Vai Vai Por... Vai Porco dia Stai a telecoglione Parco... Parco... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti